Io non riesco a dare voti sulle cose che conosco, poi siamo in fase di questi giorni, ci sono gli esami, quindi io non posso giudicare nessuno, non posso né promuovere né bocciarla perché non vivo a Roma, quindi auguro buon lavoro alla sindaca Raggi, io auguro sempre il bene, soprattutto dei sindaci, perché so che significa amministrare, la città di Napoli vuole avere buoni rapporti con la città di Roma e quindi io mi auguro che la Raggi possa superare tutte le sue difficoltà e non compete a me assolutamente dare voti a Virginia Raggi. No, io sto lavorando come se fosse una giornata come un'altra, sono contento di festeggiare il mio compleanno alla guida della città che amo, quindi passerò la giornata a lavorare, la sera con la mia famiglia ristretta.